E' giunto in una fase avanzata di sperimentazione TREC4Life, il progetto europeo di cui è capofila la provincia di Torino, finalizzato all'estensione dell'utilizzo del polverino proveniente dai pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali. Finanziato nell'ambito del programma europeo Life Plus, TREC4Life è iniziato nel dicembre 2011. Ha una durata di tre anni e un valore economico di circa 3 milioni e mezzo di euro. Nelle prossime settimane si effettueranno le cosiddette stese pilota del bitume modificato con polverino su alcune strade della provincia. Nel frattempo, presso la ditta Sintex Cal di Torino, si è svolta una sperimentazione della preparazione e della stesura dell'asfalto realizzato con bitume, a cui è stato aggiunto il polverino derivante dalla triturazione di pneumatici di grandi dimensioni, quelli utilizzati per autocarri, autobus e trattori. L'asfalto sperimentale contiene una percentuale dell'8% di bitume, addizionato con polverino, che viene lavorato alla temperatura di 180 gradi. La percentuale di polverino nel bitume varia dal 15 al 18%. Il bitume con polverino ha un costo superiore a quello tradizionale, che viene però compensato a lunga scadenza dalle sue caratteristiche tecniche. Il nuovo conglomerato di ghiaia e bitume garantisce infatti elevate prestazioni in termini di stabilità e tenuta dei pneumatici. Inoltre l'asfalto ha elevate prestazioni in termini di fonoassorbenza. Lo spessore minimo del tappetino, cioè dello strato superficiale a contatto con gli pneumatici degli automezzi in transito, è di 3 cm contro i 5 degli asfalti tradizionali. Riassumendo, l'asfalto addizionato con il polverino dura di più, si usura meno, assorbe meglio le vibrazioni e in definitiva richiede una minore manutenzione. Grazie a tutti.